signora buongiorno buongiorno tanti auguri grazie grazie ma anche oggi lavori sì anche oggi sì oggi devo lavorare di più perché vengono le mie figlie e i miei nipote e i miei generi e tu dici che io preparo quell'oro allora oggi sì che preparo quell'oro eh ma almeno oggi riuniti un po' ma invece di andare al ristorante eh non sono pensionato mi faccio andare al ristorante tu non mi hai detto andiamo al ristorante che vuoi ma? ma ti dicevo andiamo al ristorante ti offendevo perché mi offendevi? no non mi offendevo non lavoravo perché il ristorante si mangia peggio di come cucini tu poi ti offendevo e allora i soldi che mi hai dato al ristorante me li hai regali tu hai visto che non mi ha regalato niente domani ti porto in gita ah in gita scolastica ti porto a calvello in suoni che di potenza sì 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 domani ci sentiamo a calvello quando una sagra anche sì domani saremo a calvello ma cosa fai adesso? la pizza sai fare pure la pizza sai fare? eh non ci credo eh non ci credo oggi tu compriamo e lavori? eh appunto che mi avevo portato al ristorante non ti sei pittata non ti sei messa un po' di trucco niente? eh ma ancora presto prima lavoravo la fai schifo proprio? devo prima lavorare poi il trucco io non lo uso eh? sono io il trucco non lo uso proprio perché sono semplice ma non sai tutta la composta? no no sono una ragazza semplice una donna semplice ragazza no come vuoi? tu sei palitosa ma non sei semplice perché? vieni di me a prenderlo è vicino al computer qui stavo facendo i video ma io lo so che e mi hai chiamato vieni a me a riprendere ma io lo so che dopo tu non sei semplice è complicato non sei semplice Ma lo so che dopo tu fai quanto la pitta non mi hai chiamato e dopo tu come facevi? Alla vicino al computer stiamo facendo i video di che vieni a me a riprendere? Si. Eh, vanitosa. Vanitoso si. Ma io conoscendo il soggetto allora per la storia dopo che era persa la scena. Vanitoso. Io stavo tranquillo vicino al computer. Ma pure io stavo tranquillo. Invece di far lavorare le tue figlie che non ti pensano proprio, non ti vogliono bene. Le figlie vengono stasera. Abbancerà. Ma pure aiuto. Abbancerà, si. Abbancerà. Perché? Cosa è? Già è tanto che vengono. Ah? Lontano. Abbancerà. La torta la porto qua lì. E come no? Eh? Perciò mi fa una torta. Perciò mi fa una torta. Perciò non lo compro. Almeno sai che buona pure. Perciò mi fa una torta. semplicissima. Semplicissima. Tu sei vanitosa. Ma io dopo sapevo che tu era così. Sì sì sì. Sì sì sì. Sì sì sì. E che mai era prima di prendere? Sì sì. E non mi ha chiamato. Sì 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 sì. Ma non mi ha riprendi? E pensavo che non mi siamo sempre. La persona sta rimanata. Scegli un posto per domani vai. Ma vogliamo andare domani. Poi ho finito di lavorare verso le nuove e ce ne andiamo. Sì. Domani saremo in giro. Se ne andiamo sulla costia domani vai. Domani piove. È pronta? È pronta. Ma che devi fare? Mettola a crescere. Perché la metti dentro? È perché il contenitore deve farla crescere. Un'ora è pronta la pizza. Mi è una passata di pioggia. Cresce meglio. Ok. Adesso questo che fai? A me che cresce. Ci metti la coperta sopra. Eh. Ok. Pronti. La pizza c'è la coperta? No. Adesso metterlo. Mi metti la coperta. A dopo. Quando fai le pizza. Ehi. Ciao a tutti. Sì. 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 Che ti fai il forno. Che ti fai il forno. E tu sei sporca. Eh. O lo trovo un altro marito che ti fai il forno. Mi fai il forno? No. E tu vedi che non hai fatto un regalo. Almeno farò il forno. Una cosa almeno che l'hai fatta. Ma domani ti porti sulla costiera. Ma che me l'ho portata sulla costiera. Non vale. Perché io guarda camminare. E fai le cose. E poi. Quando è passato l'usante è passata pure la festa. Si deve fare oggi il regalo. Noi domani. Che ho fatto stasera? Stasera. 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 Come viene il forno. Questo è il percorso. A marchi o a posita. A posita. Non è la prima domani. Non lo vedo perché ando qui. Stasera. Si. Che sono la parte. Io non lo guardo. Si. Se non hai fatto tutto. Grazie. Teresina ma cosa fai? Lavoro. Lavoro per fare il lavoro a te, se non ti puoi che fare. Tu lavori ed altri dicono che io ti faccio lavorare, ma non sanno che tu fai lavorare a me. Certo, veramente hai ragione. Il video è registrato perché non c'è linea in internet. Che peccato, oggi è proprio sfortunato. Mi dicono che non la trovi un'altra Teresa. Vuol dire che io sono l'unico uomo intelligente che ho trovato una vera donna. Ma ti metti sempre tu sulla tenda? Se li basi nel tempo. E hanno detto che nessuno si mette in commento che un'altra Teresa non la trovi. La pizza come la fai? La pizza fa tutta abbondanza, hai pasta e poco. Io e te siamo che lavoriamo, ma quanto devo mangiare? Tu lavori. Eh? Tu lavori. Perché hai lavorato? Ti ho detto che i tuoi sudori, i miei dove sono? C'erano un po' più. Però quando vieni da, fammi vedere qua, fammi vedere l'altra. Hai visto che c'erlo? Allora non lo vedo. Non lo vedo. Non lo vedo, non lo vedo. Non lo vedo. Io tu lo compri anni, oggi è lavoro. Non lo hai mai portato al ristorante. Ti ho detto che ti porti domani a Positano. Quando abbiamo passato la festa, non conta domani. Ma che c'entra? Sai quante volte dovrebbero venire a Positano con me? C'entra. Ora ti si fanno il solito lavoro. Vengono fatte tutti invidie, fanno perdite. Sai quando le verrebbero a Positano? Allora io che vengono a fare? Eh? Se vengono loro io che vengono a fare? Ma tu sei Teresa. Ma hai detto che vengono una donna o un'altra Teresa. Ora hai messo più mozzarella che pasta. Ma tu che ne sai? Ma scusa, ma guarda, quanto ti scherzi? Tu hai messo più cose, Gimela. Queste vengono troppo pesanti. Eh, tu dici che non mi piace doppi. Alla forza non si fa fino. La pizza di questa costa 60 euro. Eh. Ok, vengono Michele, che fai allora? Ti riprovi. Perché? Perché tu mi dici parolacce. Che parolacce hai detto? Eh. Eh? Mi offendi. Perché ti offensi? Perché mi hai detto che sono vanitosa. Beh, che hai detto? No, no. Vero che nonno ti ha detto che sei vanitosa? E ma che vedi che fa? Eh che non fa per fa. No, che vedi che fa. Te li provo. Ti voglio. E poi. Eh, che vuoi. Beh. Ti voglio. E adesso? Ok, tutto. Ti voglio. Eh che. Beh. Ma Bruna metti tu la gazzia domani. No, perché non ci metti io? Eh? Ma se che mi puoi portare a fare un regalo, allora se non ci metti io non ci vengo. E andiamo a mangiare? Quattro stile. Quei ristoranti che hai a quella volta l'agrocola? Un giorno di vita e mangiare. Vabbè forse, oggi che hai mangiato i figli come lì è bello, i depoti. Che peccade, tu li mangi, tu stai mangi giù oggi. Poi che viene Maria, dicci come sono buono. Perché? Io vado a vedere. Vado a vedere Maria, sono cotta. Che Maria è curiosa come a me. Eh sì così. No. Maria la pizza non si sembra che sono brava. Hai dolce e brava Maria, la pizza sono brava io. Vabbè, la pizza è pure brava, però non vediamo forno a lei, non vedo come viene a me. Ciao a tutti, buon appetito a chi se la mangia e tanti ringraziamenti a tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri. Io non le rispondo perché sono impegnata. C'è mio marito, non mi posso mettere io a rispondere. Ti faccio la voce. Maritosa, dì che non lo sai usare Facebook. Eh non lo sai usare, non lo sai usare. Eh sì sì. Trovo sempre una pezza colonna. Che non lo sai usare, se no qua era una guerra tutti i giorni. Sì 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 sì. Questi giorni era una guerra. Fai sbocchi via, non tu i vuoi. Vai caso. Dai, ho finito io. Hai finito? Sì ho finito. Allora. Buon appetito. Poi non potresti essere una margherita che non l'hai fatta. Ma perché questo loco sono su margherita? L'olino dov'è? Ah margherita, no no oggi no. Non l'hai fatta solo un tipo. Eh? Senza peperone. E le margherita che hai fatto del peperone con le patate. Eh, non piace il peperone. E' santo peperone. A dopo.